Piano Pedersoli che è presidente dell'Ambi Emilia Romanzia che è l'associazione nazionale delle bonifiche naturalmente Presidente regionale, mi dice Presidente che effetto le fa vedere questo luogo oggi pieno di ragazzini e di giovani un luogo che solitamente non è così pieno di ragazzi Beh è un momento di gioia, un momento molto importante anche per noi delle bonifiche, dei consorzi bonifiche perché far conoscere questi impianti che sono storici e al contempo molto attuali perché tengono asciutte queste terre che come sappiamo sono state redente dalle acque ormai tante decine di anni fa, secoli fa ecco vedere qui i giovani che si interessano, che vedono la loro storia cioè oggi il loro territorio, il paesaggio possono toccare con mano e capire del perché oggi si trovano a vivere in un ambiente sano, in un ambiente pulito in un ambiente dove non ci sono gravi rischi dovuti alle inondazioni, agli allagamenti ecco è un momento di grande soddisfazione D'altra parte noi questa iniziativa la portiamo avanti ormai da molti anni proprio per far sì che i giovani comincino fin da piccoli ecco a voler bene al territorio e a capire quanto delicati siano gli ecosistemi quanto delicati dove siano le reti rigue, l'utilizzo delle acque e dei canali o l'allontanamento dell'acqua e dei canali secondo che si parli di bonifica o che si parli di irrigazione E soprattutto è bello Presidente vedere anche quanta partecipazione ci siano da parte dei giovani, dei ragazzi ma soprattutto anche degli insegnanti che insegnano loro a questo mondo e a comunicarli Lei oggi ha visionato tantissimi audiovisivi e prodotti, ne sono arrivati tanti non tutti naturalmente hanno potuto vincere però è bello capire come la scuola si impegni in questo mondo per raccontare un territorio in cui loro vivono e che non sanno come si è evoluto nel corso del tempo Devo dire che la scuola e connesso ovviamente gli insegnanti, tutto il personale didattico ha colto in pieno il significato di questa nostra iniziativa che stiamo portando avanti ormai da molti anni ed è un'iniziativa che tutti gli anni cresce e questo ci fa molto piacere perché ci si rende conto cosa vuol dire curare, conoscere prima e curare bene poi il proprio territorio D'altra parte il territorio è la nostra casa comune dove viviamo quindi chi è che si diverte a mandare a male la propria casa e il proprio patrimonio? Penso nessuno e quindi noi dobbiamo renderci conto che questa è una casa, è un po' grande come casa ma è quella sulla quale tutti quanti dobbiamo vivere voglio aggiungere se posso che per quelli invece più grandicelli abbiamo sottoscritto proprio poco più di un mese fa con il provveditorato regionale l'accordo generale, la convenzione quadro per quello che riguarda i rapporti scuola-lavoro perché ci saranno dei ragazzi di quelli grandi, geometri piuttosto che periti agrari o aspiranti, geometri aspiranti periti agrari che verranno nei nostri consorti di Bonifazia già vengono a fare esperienza proprio per toccare con mano quelle che sono le attività che poi magari un domani qualcuno di loro andrà a svolgere ma di più, dall'anno scorso c'è una materia nuova negli istituti agrari e anche nei geometri che è la scuola, che è la materia proprio ambiente territorio e anche noi ci siamo inseriti in questo contesto perché in qualche modo dell'ambiente e del territorio ne siamo custodi comunque di una bella fetta e abbiamo un ruolo importante nella gestione di quello che ci circonda Insomma direi che la bonifica è una realtà molto molto attiva continuerete con questa iniziativa? Certamente, certamente questa iniziativa vedremo di farla crescere perché la partecipazione come diceva poc'anzi è sempre più ampia e in più è un modo per fare informazione su quello che facciamo perché avere alcuni operai, maestranze, tecnici, geometri, ingegneri che fanno i loro lavori magari in un canale lontano dalle strade dove non passa nessuno, nessuno se ne accorge e molte volte ci dicono siete quelli che mandate la tassa a casa sì, ma se noi mandiamo la tassa a casa, la cartella esattoriale lo facciamo per un motivo ben specifico che è tutto quello che vedete qui attorno tutta questa rete maestosa dei canali che nei secoli, nei decenni e fino ad oggi e anche domani fa sì che questo territorio possa essere fruibile, sano e dove si possa fare economia certamente agricola ma non solo un piccolo esempio qual è quell'imprenditore, quell'agricoltore o anche solo quella famiglia che vuole mettere su un'attività economica vuole mettere in piedi attività economica o anche solo si vuole costruire una casa se sa che il giorno dopo corre il rischio che arriva l'inondazione e gli porta via tutto chi è che investe centinaia di migliaia o anche milioni di euro in un'attività o nel farsi la propria casa se poi sa che può venire l'alluvione può venire la frana allora ecco, il ruolo dei consorzi bonifichi è questo qui, non a caso i consorziati, coloro che pagano il tributo sono i proprietari di beni immobili e non sono tutti i cittadini ma quella parte di essi che ha proprietà che vengono servite dai nostri impianti andiamo avanti così certamente, sicuramente e invitiamo anche coloro anzi invito anche coloro che alle volte hanno delle perplessità o dubitano su quello che facciamo di venire qua in questi impianti noi abbiamo anche fatto pochi giorni fa la settimana della bonifica con gli impianti aperti tutti i cittadini potevano, possono, potranno in futuro venire a vedere i nostri impianti vengono a vedere cosa fanno questi bravissimi tecnici che in molti casi si riparano anche le idrovore per conto proprio ecco, questo per dire anche il livello di professionalità che c'è ecco, venire a vedere che cosa fanno le nostre maestranze e capire che insomma è un ruolo poco visibile e molto delicato ecco, venire a vedere che cosa fanno le nostre maestranze e anche le nostre maestranze ecco, venire a vedere che cosa fanno le nostre maestranze